Ieri Senti No, 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 ammatti deve provare per noi per 7 mesi E cioè Lorenz? Sì! Bardino di merda! Ascolta, io ne ho 19 e ne ho bisogno di 20, per cui è meglio tu mi ammazzi della roba lì Ogni volta bisogna forse anche dalla tua roba lì Dalla skill Comunque questa volta che non si ricarica le fiaschette inoltre al mondo Le fiale Fiaschette Fiaschette estos Sangue Altro sangue Altro sangue Piatro, Piatro R1, 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 R1 R1, 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 R1 R1, 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 R1 E poi Triambul La persona è il prossimo, è il 3 Micholas C'è un blimpato C'è un blimpato Si, ma Micholas E poi si, la gente Piatra Presidente Piatra Real 정 mom La visionary giuseppe maria de santissima ma i tuoi oddio e raga vi prenderà e corre lui corre un po' di troppo un po' che non mi asciatta no, guarda 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 si prepara con le gambe e inizia a portare la ora guarda 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 questa è la risultati almeno 3 è passato guarda 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 io mi allontano Altro che... è un via Non dovrebbe entrare nella seconda fase ora? Non veda, non veda, non veda Ora inizia a ritirire, ora non ritirisce Troppo ma ritirisce Ma così? Mamma mia anche la sua volta Ah, sei rimasta al mio fianco per tutto il tempo Mia unica mentore Mia luce guida Dov'è? Eccolo qui Gesuuu Allora, allora No, 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 no Mi ha scioccato Allora, Matte Sì Mido Mi ha scolto Mi ha scolto qui Mi ha scolto qui No, nulla Lascia stare Ho fatto la lip allora allora il signorino penso che mi ha ucciso bene bene bene